Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio dove vi faccio vedere la stanza come è venuta ragazzi è venuto no schifo no non è venuta male male però ho paura che su youtube si vedrà molto scuro molto scuro non lo so però non è brutta brutta magari manca solo un pochino più di luce che ne dicete allora facciamo subito una bella cosa oggi mi serve mi serve mi serve poca roba poca roba poca roba apriamo chi usciamo drento mi serve allora un pezzo di ferro poi 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 della redstone della redstone uno di questi qui e delle ossa 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 ecchitele qui allora andiamo qui e prendiamo uno stack di questi voilà e aspettate allora facciamoli imparare le ossa e dai veloce poi le ossa le trasmutiamo così ok e facciamo uno stack di questo tankete poi un bel po' di vetro un bel po' di vetro no ha finito l'ambra trattico porca trota facciamo così però non non basta allora facciamo anche prendiamo altri stack vabbè prendo stack di pietra ok allora vendiamo questo questo e questo tankete e voilà bene andiamo qui o qui è uguale allora 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 mettiamo la redstone mettiamo questo chi poi mettiamo questi qui e questi qui e facciamo i with l'an loomer 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 ne vengono un bel po' dividiamo perfetto poi questi quali mettiamo qui così e qua ci mettiamo i vetri i vetri ok e sotto ci va ci va vediamo un po la redstone sotto ci va la redstone 32 giusti giusti perfetto queste sono le white lamp le lampade bianche ora ci servirà della redstone quella lì forse lo abbiamo qui no non abbiamo solo due solo due solo due solo due però noi possiamo ordinare gli altri dove bastoncino findus dai su allora oh dai lingotti rossi e chiteli chi 3 facciamo un paio di leve le facciamo dopo 1 2 7 perfettico facciamo così oh e dai sto mouse del kaiser perfetto andiamo di lì ah sì ho preso anche un pezzo di ferro allora io dovrei avere della redstone non ho redstone non ho redstone vabbè lo facciamo dopo non mi serve adesso porca trota un pezzo di ferro un pezzo di ferro no che pezzo di ferro un pezzo di redstone pirletta un pezzo di redstone e facciamo che redstone e ferro ci fa la polvere azzurra sistemiamo il piccone perché avevo finito la polvere e voilà sistemiamo la spada e voilà bene ora possiamo andare queste lampade fanno veramente tanta luce vediamo se riusciamo a fare una cosetta allora io direi proprio qua proprio non riusciamo a salire facciamo così ah è aperto sopra è vero pirletta è aperto bene facciamo così saliamo un attimo e dovrebbe essere dovrebbe essere vediamo un po' vediamo un po' la forma dovrebbero essere questi qui allora sì questo poi c'è questo qua dell'acqua vabbè lo richiudiamo con quell'altro lì poi c'è questo qui questo qui qua c'è l'acqua quello lì quello lì e quello lì perfetto ci mettiamo le nostre belle lampade una una due una una e una qui li mettiamo questo qui tankete gli mettiamo l'altro ah qua ho sbagliato anche a metterlo vedete voi gli mettiamo questo qua perfetto ora ci piazzichiamo la redstone così dovrebbe prenderli tutti in teoria eh prendiamo una leva facciamo una leva vediamo un po' se le funzioni no prende solo quei due bene così e così proviamo a scendere su no da dove si scende? da qua scendiamo su qua dovrebbe avere altri cubi e richiudiamo voilà e beh adesso c'è molta più luce molta più luce ok 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 poi li metteremo anche qua le lampade e magari anche i vincati ma no ma no ma no ma no 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 Grazie a tutti.